Buonasera dallo studio di Pineta Oggi TV Online, sono le 21.41, siamo in diretta, davanti ai microfoni Massimo Bonella, la regia centrale c'è Rosario Moreno per un aggiornamento delle notizie, dunque Giulio Tramonti è indagato a Milano per corruzione, nel mirino dei PM scrivono alcuni giornali, una consulenza da 2,4 milioni che l'ex ministro dell'economia nel quadro, scusate nel quarto governo Berlusconi avrebbe incassato da Finmeccanica controllata dal tesoro, in cambio dell'ammorbidimento della contrarietà all'acquisto per 3,4 miliardi nel luglio del 2008 dell'americana DRS, fornitrice del Pentagono. Una presunta tangente veicolata come parcella per una falsa consulenza dello studio del quale Tramonti è oggi nuovamente socio, indagati anche un altro socio, Enrico Vitali, l'ex presidente Finmeccanica Guarguaglini e l'ex direttore finanziario Panza, perquisito anche lo studio. Poi abbiamo un'altra notizia che ci è giunta da poco in redazione, vediamo anche questa che fa parte sempre in questo aggiornamento delle notizie di Ecomondo 2000, dunque i militari del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno arrestato stamattina Renzo Pini, 64 anni, direttore regionale dell'Agenzia del Demanio del Lazio. Pini è stato posto agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato assunto nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Roma sull'affidamento di un appalto. Al direttore viene contestato il reato di abuso d'ufficio. Arrestate, oltre a Pini, altre otto persone, tra cui Marcello Bisca, ex componente del comitato di gestione dell'Agenzia, imprenditori e funzionari di banca. Per tutti sono stati disposti i domiciliari. E' tutto dunque per questo aggiornamento delle notizie di Ecomondo 2000, qui assai su Web Network, in collaborazione con la redazione giornalistica di PianetaOggiTV.net. Letture in studio di Massimo Bonella, grazie per averci seguito. Vi ricordo, tra breve, dopo un breve intermezzo musicale, alle 22 partirà la trasmissione PianetaOggiTV, realizzata negli studi di Fontana Freda, di RPF, Radio Piper Fontana Freda. Buon prossimo momento d'ascolto e a più tardi dunque. Grazie a tutti. Grazie a tutti.